ciao a tutti ragazzi qui è lei san e sono tornati in un nuovo video oggi dopo anni ce l'ho faccia da mello adesso sono un giro che mi fa sovrago ma guarda anche a sapere per qualche volta Sì ma esci da quel buco Finalmente dopo anni ce l'ho fatta A buttare giù tutto A buttare giù tutto ce l'ho fatta Bisogna che Fermo qui te Fermo qui te Non venire indietro che lo schiacci Non vuoi Ecco fatto No no Lo schiacci Sì hai ragione Sono il robot del futuro Altro che meglio meglio Leggi meglio Solo che non ci stai mica tutto Te pirulli 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 Però Il mio pavimento Vai a dire anche con la tua nonna Che vi ti parolazze Si vede anche tutto il casino che hai messo nell'armadio Appiccicato Ah questo qui Questo il gatto Larry sana in sacchetto Il sacchetto Larry sana Ma cosa vuoi il chakra Il sole chakra Il sole chakra Vieni qui te Qualcuno non gradisce Ah lo so Poi oggi vi porterò il video con la Wii Quindi Con la pedanina qui sotto Questa Non Tom Tom l'ha fatto prima Vero Come? Abbiamo fatto Just Dance Ma cosa? Ma è impossibile un cane Just Dance Niente è impossibile Quindi Saluti tutti E ci vediamo tra poco Tra poco per il prossimo video Abbassati perché non ti vedo Così fai il saluto Ciao ragazzi Ci vediamo Modello gabinetto Quando ti metti giù Modello turca Modello turca Ecco Ecco così puoi salutare Ciao ragazzi Ci vediamo in un nuovo video Sempre che non mi sconto Oddio No Ecco Saluta bene Oddio Adesso rimaniamo un altro po' collegati Vediamo Leri San cosa combina Si è alzato Via Saluta Aia Armato fino ai denti C'è una cosa bella Che sto coso Sto coso E pensate No ho preso almeno 5 kg 6 kg 6 kg 6 kg 6 kg Questo qua Almeno ho preso 30 kg sicuri Non andare a fare delle prove Che se cade Poi proprio da così Si bagatta Bagatta Bisognerà poi tradurre bagatta Ce l'ho fatta Ok Ciao a tutti Ciao ragazzi Ci vediamo in un nuovo video Con la Wii Ciao Saluta Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti